Sono il dottor Corrado Palmas, fondatore dell'equipe multinazionale Smile Dent Team e da anni aiuto i miei pazienti di oltre 50 anni a ottenere il sorriso che meritano. Risolvo definitivamente stadi avanzati di malattia parodontale, incidenti gravi o errori di altre equip mediche, con speciale focus sui casi più complessi e gravi da risolvere, progettando per loro con robot ed intelligenza artificiale dei nuovi denti iperrealistici, fissi su impianti. Tutto questo i miei pazienti clinicamente idonei lo ottengono in maniera predecibile e programmata, grazie al trattamento con il sistema bocca bionica, sviluppato dalla mia equip in questi anni in Moldavia e Romania. Ho preparato per te il kit informativo Denti fissi con il sistema bocca bionica, nel quale ho incluso tutte le informazioni che devi conoscere prima di valutare un intervento dentale. Richiedi ora il nuovo kit informativo Denti fissi con sistema bocca bionica, del dottor Palmas in Moldavia e in Romania. Clicca il bottone qua sotto.